Un gol così si stenta a vederlo anche in Serie A. Controllo, tunnel e conclusioni spettacolari all'incrocio dei pali. Dopo la rovesciata di Prato, Moscardelli si inventa un'altra gemma calcistica, grazie alla quale l'Arezzo fa suo un derby con il Livorno fino a quel momento bloccato. Gli Amaganto tornano così al successo dopo quattro partite, riconquistando il terzo posto solitario della classifica. Una gara non particolarmente bella dove ha fatto la differenza alla prodizia del Mosca e il carattere della squadra Amaganto, più della tecnica, contro un Livorno ancora troppo penalizzato dalle numerose assenze. Sabato trasferta per l'Arezzo contro il Renate. Troppo facile rispondere con la giocata del singolo di Davide Moscardelli. L'ha vinta con l'atteggiamento, l'ha vinta con la voglia di aiutarsi, l'ha vinta con la compattezza di un secondo tempo in cui non hai concesso assolutamente niente. Ai nostri avversari l'hai vinta perché noi abbiamo un giocatore che anche quando per una frazione non gioca benissimo c'è sempre il colpo e ti può sempre risolvere in qualsiasi momento la gara. Questo sicuramente è uno dei primi, è una bella conclusione anche l'azione saltando avversario con il tunnel. Diciamo che mi mancava da un po' di tempo il tiro da fuori perché è una cosa che in teoria ci dovrebbe avere, quindi magari farne qualcuno in più. La squadra ha giocato bene, abbiamo concesso non tantissimo, quindi è una vittoria importante. Veniamo da un momento difficile sia di risultati, quindi di classifica, anche la situazione del Presidente di questa ultima settimana, gli ultimi dieci giorni. Quindi sicuramente una vittoria importante di classifica che poi anche per i tifosi, dedicata sicuramente ai tifosi che ci sono sempre stati vicino, anche in queste ultime partite e poi senza scordare il Presidente perché ha passato questa settimana non bellissima, quindi sicuramente anche a lui.